Ciao a tutti, vediamo come possiamo eliminare l'account Instagram da dispositivo Android. Bisogna fare un giro abbastanza lungo a differenza di iOS, perciò andate sul vostro profilo Instagram. In alto a destra avete il classico menu con le tre lineette, quindi il menu hamburger. Premete lì e sul menu che vi compare dal basso premete su impostazioni. A questo punto premete su assistenza che è subito sotto ad account, perché nella schermata account non c'è la possibilità di eliminare l'account, perciò dobbiamo girare per un'altra strada, quindi premete su assistenza. E da qua andate su centro assistenza. Adesso vedrete la barra di ricerca con scritto ciao come possiamo aiutarti e voi cercate elimina account e inviate. Premete il primo risultato che è eliminazione dell'account Instagram, quindi selezionate quello e nella pagina che vi compare, vedete che c'è il testo tutto grigio e blu per i vari collegamenti, voi scendete fino a trovare una sezione apribile, quindi scritta tutta in nero, abbastanza in grande, con le freccette, vedete che c'è scritto Instagram.com da browser mobile o da computer, quindi aprite lì e premete sulla dicitura in blu dove c'è scritto elimina il tuo account, così ci apre direttamente la pagina per l'eliminazione dell'account. Veniamo perciò mandati alla pagina effettiva dell'eliminazione, vi chiede una motivazione sul perché volete eliminare l'account, voi date quella che volete, dovete reinserire la password del vostro account, chiaramente, dopodiché premete sul pulsante sotto che dice elimina l'account, ok? Vi darà la data massima in cui verrà eliminato, in questo caso è il 7 ottobre, avete tempo quindi fino al 7 ottobre per recuperarlo, esattamente come vi dice da ciò che vedete a schermo. Voi premete su elimina e vi manderà la pagina di conferma, io in questo caso non lo faccio perché vado a registrare anche il tutorial su come farlo da PC. Se vi serve ce l'ho sia da PC che per iOS. Questo è quanto, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao! Ciao!